Rubavano beni di interesse storico ed archeologico per poi rivenderli sul mercato illegale, anche a noti professionisti. A scoprirlo i carabinieri di Teano, in provincia di Caserta, che hanno notificato stamane due arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a quattro persone ritenute responsabili a vario titolo di furti e riciclaggio di opere d'arte. Recuperati a casa degli acquirenti circa 170 oggetti di varie epoche, tra il I e il II secolo d.C., tra l'VIII e il VI secolo a.C., per un valore stimato in mezzo milioni di euro. Altri cinque oggetti sono stati poi sequestrati durante alcune perquisizioni a casa degli indagati. Tutto il materiale è stato affidato alla sovrintendenza per i beni archeologici e culturali. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere.